Questa è bella battaglietta! Come è tardata questa parte? Non sai che faccia nulla? Come non ce l'ha nulla? Guarda quell'amore che è tardata! Guarda anche il cuore del mare! Questa è una questione dei piccoli! Ho fatto un premissimo piano all'orecchio! All'orecchio? Era pulito? Si! Non funziona! Non funziona perché la madonna! Già la vedo! Già la vedo Mari! Guarda dov'è! La veduta! Con gli occhiali! Guarda! Oh tagli la mano! Oh tagli la mano! Eccola qua! Mi sta telefonando! Per il maresciallo! Ci devi dire che è una saluzione! Ci ha visto! C'è sopra il maresciallo! La vedi dov'è? La vedi dov'è? Guarda dov'è! Saluta! Matte l'hai vista la nonna? Tua nonna sarà al posto della statua! Ti devi dire che la zia saluta con il ventaglio! Maria! Ma non ti vede? Oh non mi mettete il ventaglio davanti! Maria Portorone! Ti portorone! Hai visto il granchio? Sì! Viva Maria! Viva! 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 Ciao! 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 Con la barca sale! Ma sei fuori di testa sei! Torni alle 11! A mezzanotte ci vediamo! Ciao! A mezzanotte ritorni! Sì! Non mangi! Guarda chi l'ha scorta! Sì! Non mangi! Guarda chi l'ha scorta! la parcia costiera ma hai visto chi l'ha scosta? no ma scusa non ci dobbiamo guardare quante parche ci sono dietro e stati qua